Ci siamo, abbiamo un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, ma nulla di non recuperabile con un po' di pausa pranzo e facendo un po' di tira e molla fra le cose. Allora, io ho il piacere di presentare Andrea Pompili, amico di vecchissima data di questa comunità e anche del MoCA, è stato nelle ultime edizioni. Mi dicono anche che abbia, così, fonti non accreditati, mi dicono abbia ancora il manifesto di MoCA 2012 in ufficio, quindi c'è questa cosa, quindi la metto qui senza assolutamente un amico, fece un bellissimo talk, lo ricordo. Andrea è un hacker, lui si è messo nella bio che è un tecnologista, che devo dire è un bel termine, è un bel termine perché sostanzialmente descrive bene cosa piace in maniera assolutamente, assolutamente inappuntabile. Andrea farà due talk oggi, credo nella stessa giornata, sì, non ricordo a memoria tutta la schedule, sarei folla a farlo. Questo qui su una delle sue grandi passioni, che è appunto i videogiochi, il retro gaming, i videogiochi, e lui ha fatto, ci racconta, credo ci racconterà, quella che è la realizzazione di un gioco, che poi, almeno parlo per me, era, e forse lo era qualche anno fa, era il sogno di qualunque ragazzino, cioè andarsi a fare un videogioco. Poi, chi ci è riuscito meglio, chi ci è riuscito peggio, chi si è fermato a fare veramente il tris o poco più, è chi si è dilettato a fare qualcosa di più. Poi, diciamo, erano anche i tempi in cui questi giorni si è nominata la demo scene, quindi praticamente andare a spingere quello che era un hardware abbastanza limitato, a fargli fare cose che sono magiche. Diciamo che da questo punto di vista la crescita delle risorse non ha portato a una crescita lineare di quello che facciamo con le macchine. Quindi adesso lascio la parola ad Andrea, grazie. Allora, grazie a tutti. Allora, mi presento partendo dalla mia infanzia. Quindi, ho cominciato nel 1985, con questo veniva chiamato il biscottone, Comoda 64. Ricordo che mio padre fece una bella ricerca di mercato che durò due anni per capire quale computer mi doveva comprare, partendo dall'Intelevision, il Philips, il Vic20, il Vic16, bla bla bla, ma alla fine mi fece il Comoda 64. Perché è importante questa cosa? Voi dite, ma che ce frega a noi? Fondamentalmente perché mentre lui leggeva il manuale su come si collegava in rete, io avevo già lanciato il comando e già prendevi i giochi. Da quel momento mio padre disse, computer roba tua, io non ne voglio sapere niente. Quindi, aiuto della famiglia, sparito. Questa è la premessa. Soprattutto perché io abito a Anguillara-Sabazia, lago di Bracciano, non so se sapete, un posto dimenticato da Dio, fondamentalmente, dove non c'è nessuno, non stava a Roma, dove magari non c'erano le BBS, una chiamata qualsiasi, era interurbana, a gettoni dovevano pagare almeno 5.000 lire al tempo soltanto per dire ciao a qualcuno. Quindi, BBS non se ne parlava, collegamenti non se ne parlava, qualunque cosa, eccetera, per me il mondo dei computer era basato sui giochi, addirittura c'era la nomea che tu, più computer avevi più eri bravo col computer, c'era uno, c'era 11 computer, bravissimo, immaginavo come Evangelis che scriveva tutti contemporaneamente, ma per me il computer era questo, c'erano il giornalaio, c'erano le riviste, i giochi per me erano questi, erano cassette, dove c'è questa cosa che si chiamava, che ne so, il Turbine Johnny, cioè nomi perché ovviamente craccavano i giochi, gli cambiavano il nome, e ho detto, craccati in maniera abbastanza cosa, ma per me il mondo era questo, e dicevo, ah che belli questi giochi, solo un piccolo problema, che io sono una pippa a giocare, ancora ad oggi, c'è un problema di coordinamento occhio-dito, e quindi qual era il problema? Che non riuscivo a finirne manco uno, anzi, manco il primo livello, morivo sempre, e essendo schiappa, stiamo parlando del 1987, quindi qualche tempo dopo, ho detto, sai che c'è? E qui vedete il narcisismo dell'individuo, no? E anche la supponenza in alcuni casi, però forse è nata così, porre l'hiking, eccetera, me voglio far gioco mio, lo faccio io, perché così, siccome l'ho fatto io, ci metto il chat mode dentro, rimetto le vite infinite, e io lo finisco, e gli altri no. Quindi lo faccio difficile per gli altri, e io faccio il figo. Cioè, pensate, pazzia, avevo 13 anni, 14 anni avevo, e decido di fare questa cosa. Ora, che c'è a disposizione? Sto robo qua, manuale del Commodore 64, ricordo che a quel tempo, non è come adesso che ti va a vedere su internet, che fanno i computer, ti davano il manuale, anche perché i computer li davano dall'elettrotecnica, qui dicevi il manuale, che era anche molto, ti diceva anche i schemi tecnici di collegamento, eccetera, e tu, c'era il famoso famigerato basic, io odio il basic, perché ho cominciato con questo basic, quindi qualcuno mi ha detto che scrivo malware, che ho visto il basic, io lo ucciderei sulla culla, perché io non uso il basic, perché odio il basic, perché è lento. Quindi ti facevi tutti gli esempi che stavano là sopra, e capivi un po' le cose, per esempio che esistivano gli sprite, che erano sempre dei blocchi di grafica che tu potevi mettere sullo schermo dove ti pareva, peccato che erano monocolore, io vedevi i giochi, erano tutti multicolore, a ben quattro colori, signori, di questo stiamo parlando, e dicevo, ma come cazzo rola può essere che quelli c'hanno tanti colori e io c'ho un colore solo? C'erano delle cose che venivano spiegate, ma era mistero della fede sostanzialmente. A quel punto, siccome sono un curiosone, ogni volta che andavo a casa di un amico e c'era un libro che parlava di roba del Commodore 64, non lo leggeva, a un certo punto ho capito come fa apparire quattro colori sugli sprite, e quindi questo ci ha voluto un pochino, addirittura mi ricordo quando stavo in vacanza, su un trentino, ho trovato un libro che spiegava che esisteva una cosa che si chiama linguaggio macchina. Ora, capite, in quel tempo, cioè voi già assemble, per me il linguaggio macchina era la macchina, si viene più veloce perché capisce la macchina, questo era il concetto, e capivo che c'erano istruzioni che si chiamano MOV, cose del genere, e poi a un certo punto ho capito che ogni processore c'aveva il suo, e che quindi nel mio computer c'era un cappero di processore dentro. E come andiamo avanti? Faccio il primo liceo, un amico mi dice che c'è un tizio, che è questo che vedete qua, si chiama Emanuele Tagliariol, che stava al terzo superiore, che era bravo con i computer. Io lo tampino per un bel po' di tempo, quindi immaginate noi prendiamo il treno insieme, quindi io mi ci avvicino piano piano, tipo lo squalo. A un certo punto mi dice, ci riesco a parlare, e gli faccio la fatica di domanda, mi dicono che tu sai i computer, lui fa ovviamente il mondo del lagging, e certo, mi spieghi come funziona il corpifero, perché funziona così, non so se avete subito la stessa cosa, dopo una chat ti dice, oh voglio sapere come funziona questa cosa, tu un pari, ti rispondono sempre così, io gli ho rotto talmente tanto i suddetti, che alla fine lui decise di fare questa cosa qua, ogni giorno mi spiegava tre istruzioni assembler del 6-5-10, quindi io andavo là, lui mi spiegava le tre istruzioni, solo tre, io gli facevo tutte le domande e poi li faceva al posto così, finché alla fine non mi ha detto tutte, quindi ho capito che esistevano le istruzioni assembler, quindi io ho iniziato a programmare in assembler, anzi in linguaggio macchina, perché poi come ti ho sembra, le piene concuncidevano al tempo, e quindi su carta, quindi gli portavo il programma su carta, lui me lo guardava e diceva, qui hai fatto una stupidaggine, non devi usare BNEM, devi usare BCC, cioè si decorebbe qua, finché a un certo punto, mosso a pietà, lui mi dà sto coso qua, non so quanti di voi abbiano lavorato sul 64, vedo un po' di giovani, la cosa, sto coso si chiamava CHAMP, era un affare che per caricarlo ci volevano 5 minuti, era lento, scrivevi in programma, ci metteva per compilare un altro 5 minuti, se te sbagliavi una cosa, e te sbagliavi qualcosa, lo riscrivevi, lo ricompilavi, perdevi un altro 10 minuti, significa che per scrivere una routine che faceva semplicemente, apparì un pixel sullo schermo, ci mettevi due giornate, ma io questo ci avevo, e qui vedete un pezzo di codice scritto, cioè era l'istruzione, cosa facevamo noi, siccome era lento, intanto mio padre mi aveva comprato il floppy disk, il floppy disk, quindi al 64, lo modifichiamo per non lavorare più con le cassette, ma per lavorare col floppy disk, e lì mi si è aperta la vita, se non altro non ci mettevo 5 minuti per caricarlo, o per ricaricare i programmi, questo mi ha svoltato la vita, ma non manca, la seconda cosa che mi spiegò lui, sempre Emanuele, è che esiste una cosa nel 64, che si chiama il soft reset, tra tutto c'erano le cartucce dietro, c'erano il pin 1 e 3, se tu li mettevi in contatto elettrico, lui si resettava, soft reset perché non cancellava la memoria, perché era utile, perché la memoria rimaneva in tonza, e quindi potevi vedere che cosa c'è stava dentro, ok? E questa cosa, io la facevo con la graffetta, quindi, mentre la gente seria, se faceva il bottoncino, che premeva, tutto figo, eccetera, io facevo con la graffetta, e infatti ho fritto un Commodore 64, una volta, perché ho messo in contatto, e ho distrutto tutto, ma il problema è che, quando ti analizzavi la memoria, voi che siete abituati adesso, con Gidra, Hidra, che figo, vedo tutti i cosi, io vedevo sta roba qua, ok? E da sta roba qua, dovevo capire come funzionava, queste sono le basi, del mio reverse engineering, perché per capire una roba del genere, dove non siete zompa, dove addirittura c'era codice automodificante, cioè cambiavano le istruzioni dentro, altro che protezione dello stack, protezione delle cose, non c'era niente, quindi, c'era il programmatore, che per semplificarsi la vita, cambiava le istruzioni, mentre andava avanti, quindi tu sapevi che cosa succedeva, e tutto, e non c'era il debugger, me lo dovevo fare, guardando sto coso, quindi me lo stampavo, a certa volta, mi facevo le freccette, e tutto il resto, per capire come funzionava, ci torneremo dopo, questi sono gli strumenti, l'altra cosa, la terza, che Emanuele mi presentò, fu sta rivista, si chiamava Zap, Zap 64 è l'inglese, non ho trovato il logo dell'italiana, Zap è bassa, una rivista per videogiochi, quindi ho capito, che videogiochi si pagavano, e che esistevano, e li potevi pure ordinare, c'erano una confezione, erano figli, eccetera, e che te li potevi pure usare, pensa che roba bella, prima tutto, invece, i giochi craccati, ho capito che esistevano, che quindi era tutta roba craccata, e a quel punto, mi si apre un mondo, perché Zap aveva due cose importanti, adesso non funziona più così, c'erano i famosi diari di Zap, questo è quello di Andrew Braybook, che è quello più famoso, dal mio punto di vista, perché lui era un tecnico, ti spiegava, perché effettivamente, voglio fare un gioco, ma come si fa un gioco, lui spiegava ogni giorno, che cosa si inventava, che cosa creava per fare il gioco, lui era molto preciso, sulle tecniche che utilizzava, gli algoritmi che utilizzava, eccetera, non ci capiva un cazzo, però fondamentalmente, seguendolo, più o meno, avevo capito, quale era la difficoltà, per fare un gioco, c'erano anche altri diari, che erano un po' più schifiti, la cosa importante, è che c'erano anche i giochi, stiamo parlando, marzo 1988, quindi siamo andati avanti, visi questo gioco, che si ama io, e mi piaceva tanto, il fatto che era ambientato, con la natura, per verde dalla natura, e il green, e tutto il resto, voglio fare un gioco, che abbia questo scenario, non è vero, che il livello 2 di Catalypse, è ambientato, sulla natura, nella stessa maniera, più o meno, perché, la mia idea iniziale, era, a monto, le cose, non si poteva fare sul 64, però, mi piaceva questo gioco, ora, il problema era, c'erano i diari, che mi dicevano, come funzionavano i giochi, c'era il gioco, da cui ispirarmi, il problema era, come si fa un gioco, stiamo parlando, in realtà, alla fine del 1987, quindi, dicembre 1987, esce lo Shoot'em Up Construction Kit, cioè, un gioco, per fare i giochi, adesso non è pensabile, una cosa del genere, era, praticamente, hanno messo insieme, tutta una serie di cose, due programmatori, importanti del 64, hanno fatto Whizball, e cose del genere, hanno creato questo coso qua, e questo coso qua, gestiva, per esempio, 16 sprite sullo schermo, il 64 ne aveva 8, quindi, c'è qualcosa, si sono inventati qualcosa, per gli sprite, c'era lo scrolling, era verticale, ma uguale all'orizzontale, quindi, ci sono tecniche, che famo, reset, e cerchiamo di capire, come è fatto dentro, la prima cosa, che ho capito, come funzionava, quello che si chiama, il multiplexing degli sprite, cioè, il 64 ne aveva 8, tu li potevi posizionare, sullo schermo, e non più di 8, ma siccome, a tempo, si facevano i processori, alla buona, praticamente, lui lavorava, sulla raster line, si dice, cioè, lui, mentre disegnava, lo schermo, in realtà, lui vedeva soltanto, la y dello sprite, e lo disegnava, se quella era la y, che succedeva, se io gli cambiavo la y, dopo che l'aveva disegnato, lo ridisegnava di nuovo, e quindi, c'era un altro sprite, quindi, potrebbe avere un nono, è un decimo, un dicesimo, un dodicesimo, un tredicesimo, fino alla fine, quindi, come funzionava il giochetto, dovevi aspettare, che la raster line, andava oltre, e poi, gli cambiavi la y, lo sprite, e lui lo ridisegnava, quanti ne ho messi, ho fatto la mia routine, 24 sprite, ho detto 24, perché, perché, Andrew Braybook diceva 32, e quelli c'erano 16, io, siccome voglio far figo di mezzo, ne metto 24, dice, c'era un senso, no, anche perché mi bastavano 16, effettivamente, però, questo era il trucco, era un trucco hardware, e io questo l'ho capito, riversandomi, lo shoot'em up construction kit, se no, ma chi lo sapeva, che succedeva questa cosa, in qualche maniera, poi me l'hanno spiegata dopo, in varie fantasiose cose, la seconda cosa, che ho capito, lo shoot'em up construction kit, che se vuoi fare lo scrolling, orizzontale o verticale, devi usare questo sistema, che poi, il tizio là, Martin Walker, lo chiamava Blue Peter, poi ho scoperto che lo chiamava così, solo lui, però fondamentalmente, è il double buffer, cioè, tu disegni, una schermata, su un primo schermo, poi la scrolli, di quello che ti serve, e poi passi al secondo schermo, quindi tu hai sempre due schermi, uno che è visibile, e uno che non è visibile, tutto il disegno, lo fai su quello non visibile, poi scambi gli schermi, e vai avanti. C'è un piccolo problema, che spostare uno schermo del 64, considerate che stiamo parlando, si lavorava in modalità grafica a caratteri, quindi 40 colonne, per 24 righe, sostanzialmente, quindi immaginate una mappa, di quanti caratteri erano, non mi ricordo, ti occupava praticamente, quasi tutto il raster line, quindi solo per spostare la mappa, hai definito lo spazio, e poi ci mettevi sprite, e non ci mettevi più niente, e quindi, il problema che ho capito, è questo, questa è la Bibbia, per chi faceva i giochi nel 64, ogni raster line, era 63 cicli di CPU, il che significa, che se volevi fare un gioco, dovevi mettere le istruzioni, in funzione, di quanti cicli clock, facevano ogni istruzione, cioè le istruzioni ne facevano due, le istruzioni ne facevano tre, le istruzioni ne facevano quattro, se usavi quelle da quattro, eri un cretino, perché te ne entravano te meno, quindi il problema era, come mettere, cioè pensate, dovevi prendere il linguaggio macchina, e capì quali istruzioni, ti rientravano nei 63 cicli, che tu avevi a disposizione, e quindi uscivano fuori, bestialità come questa, questo è un esempio, dello scrolling, se dicevamo allo srotolamento del ciclo, vedete che, vengono spostate le locazioni, da C401, e se ne spostavano due A, che mi pare che è 40, quindi riga per riga, quindi significa che io spostavo la mappa, pezzo pezzo, ripetendo all'infinito, la stessa istruzione, se c'è il srotolamento del ciclo, devo fare un ciclo, di 10 istruzioni, che fanno la stessa cosa, invece di fare il ciclo, a schivo 10 volte, questo era il concetto, quindi immaginatevi pure, per quando compilavi, che te venivano dei compilati, 250 righe, solo per spostare i byte, da una parte all'altra, questo era il concetto, però questo, mi ha permesso di fare, quello che a me serviva, a quel punto, bisogna fare la grafica, bisogna fare il sonoro, e quindi, che faccio, parto e dico, mi devo fare gli editor, questo è l'editor degli sprite, l'ho fatto io, ci ho messo sei mesi per farlo, però fondamentalmente era figo, perché c'aveva pure, i widget, quindi abbiamo fatto il window manager, avevo fatto che su 64, quindi tu potevi andare sopra, aprire le finestre, scegliere il colore, cioè, era benissimo, ma ci ho messo sei mesi, perché ho detto, se continuiamo così, sto gioco lo faccio, consigliate che avevo 15 anni, lo faccio, non solo quando, ho preso la maturità, ma forse quando mi sono pure laureato, non va bene, quindi che faccio, lo shoot map construction kit, c'aveva tutti i tool, per fare quello che serve, ho usato i suoi, quindi, c'era l'editor dei caratteri, e quindi mi facevo i caratteri multicolore, vi ricordo che, non c'era l'ambiente a bitmap, sul 64, era impossibile gestire una bitmap, dovevi quindi, ridefinire i caratteri, A, B, C, D, E, con questi colori qua, e poi li combinavi con dei blocchi, 5x5 perché, perché lo shoot map construction kit, li faceva 5x5, quindi, questa per esempio, è il livello 3, di catalipse, e quindi vedete, questo è esempio delle montagne, i diamanti, eccetera, tutti disegnati in questa maniera, quindi mi devo disegnare tutti i caratteri, poi comporli a blocchi 5x5, che si sono compiti al sede, tipo di tessere del domino, e questa era la mappa, tutto questo bel lavoro, comincia a sviluppare, questa è per esempio la routine iniziale di catalipse, quindi questo, per farvi capire come funzionava, come si faceva dei bug, e tutto il resto, staticamente, a quel punto, le ispirazioni, il primo gioco, a cui, vi ricordo io, per la parte di grafica, ma il gioco per le armi, è stato Salamander, Salamander aveva un controllo di armi, che era estremamente interessante, me lo sono decompilato tutto, ho visto come funzionavano, e ho creato tutte le armi di catalipse, su quello, su quel modello, quindi capire come i proiettili andavano, come gestire lato fire, tutte queste cose qua, ma non solo, c'era quest'altro gioco, che si chiamava Katakis, che era copiato da R-Type, che c'aveva quello che si chiamava Nizik Laser, quindi dei laser che rimbalzavano, a me piacevano tantissimo, infatti in catalipse ve li trovate, anche perché lì c'è tutta la fisica da gestire, il rimbalzo, e tutto il resto, e infine il tappo della penna BIC, tutti dicono che la mia astronave è stata copiata da un altro gioco, che vedremo dopo, che si chiama Armalite, in realtà l'ho copiato dalla penna BIC, quindi le prime versioni del sistema erano basate su, proprio, era una penna BIC, questo è il concetto, il tappino della penna BIC, poi l'ho dovuto cambiare un pochetto, perché sennò mi dicevano che avevo copiato un altro gioco, e quindi ci ho dovuto lavorare un pochino, perché infatti, stiamo parlando di novembre 1998, esce Armalite, Armalite è molto simile su alcune cose, di Armalite io non ho preso nulla, tranne ho capito come funzionavano certe cose, ho capito che c'aveva il sistema di ordinamento dei sprite, che era migliore del mio, tante cose ovviamente uno impara sempre, però il problema era come è fatta la grafica, la grafica era basata sul colore bianco che sparava sui monitor, e tutto il resto che creava il contrasto, così sembrava che ci stavano più colori, ma quel modello di grafica, era un modello per disegnare, io applicavo lo stesso, quindi la grafica sembrava la stessa, ma in realtà poi se andavi a vedere, proprio il modello era diverso, anche quello che succede era diverso. Ah, mi sono dimenticato di dire che ho messo pure il parallasse delle stelle, quello me lo soccorre da Salamander ovviamente. Finalmente, siamo nel 1989, c'è vita nell'universo, perché nel frattempo Emanuele, ricordate Emanuele Taglieriol, eravamo un gruppo di amici, eravamo in tre, gli unici tre d'Anguillara che stavano fare qualcosa col computer, lui aveva mandato una demo all'Ital Video e a un certo punto lo invitano alla Genius su Bologna, stiamo parlando del 1989, io c'avevo 16 anni, e mio padre incosciente, ovviamente, mi mette su un treno per Bologna alle 5 di mattina, con altri tre personaggi, di cui uno lavora pure con noi che si chiama Massimiliano Agostinelli, che era più grande, che aveva 18 anni, vi dico quello che faceva, però vabbè, fondamentalmente, quindi mi mette alle 5 a Tiburtina su un treno, dove mi dico che c'è stata a Tiburtina la cosa, e mi manda a fare questo incontro. E io a questo incontro ci vado preparato con la prima demo di Catalypse, quindi sostanzialmente con questa cosa qua. Quindi avevo fatto lo scrolling, ci stava la parte di parallasse sulle stelle, tutte le armi che funzionavano, e soprattutto c'erano tutti gli sfondi, vi ricordate i blocchi che vi ho fatto vedere prima, in qualche maniera? Eccoli qua. Quindi tutti i blocchi montati, dove tu potevi vedere la mappa che scorreva. Quindi c'avevi tre livelli di parallasse, c'avevi le armi, e i zig laser, vedete i laser che rimbarzano e cose del genere. Quando la Genias vide la demo, perché la caricai, io immaginate che ero più giovane di tutti, perché solo io avevo 16 anni, e disse, ok, facciamo un gioco con te. Ovviamente non cacciano un euro, te lo fai tu a casa tua, fai come te pare, e poi vediamo quello che succede. Questa era l'imprenditorialità italiana per i videogiochi. Nel senso, se mori, mori, se a me mi frega niente, se vinci, io faccio i soldi. Questo era il principio. Tanto è vero che manco me volevano pagare col gioco. Mi dissero all'inizio che davano 2 milioni di lire per il gioco, a me me ne promesero 10 milioni di lire, che poi mio padre ha dovuto minacciare quello che gli doveva dare, però alla fine me l'hanno dati. Quindi ci ho guadagnato 10 milioni di lire nel lontano 92, poi vediamo quello che è successo. A quel punto, io sono ingaggiato, devo fare il gioco, galvanizzato, e voi pensate, mi metto a fare i nemici, decisioni? No, corpifero. C'era questo gioco sull'amica che c'era questa introduzione molto figa, e io dico, sai, figa, me la faccio pure su 64, quindi copio il modello, quindi il deserto, la cosa del genere, me la faccio su 64, quindi capite? La pazzia, cioè non pensi al gioco, alla dinamica del gioco, alla meccanica del gioco, pensi a mettere pezzi al gioco, quindi le scene finali, tutte le cose, tutto ciò che non c'entrava nulla col gioco, perché questo lo poi li riprenderemo. Non solo, nel 90 esce fuori questo bellissimo gioco che si chiama Turrican, che era fichissimo, perché a parte i colori, eccetera, c'era questi spraytoni giganteschi, vedete questo pugno? Quello era bello grosso, e lì mi sono riversato Turrican e ho capito che c'era un altro trucco per gli sprite, vi ricordate il trucco di prima? Si poteva fare la stessa cosa se tu tutti gli sprite li riposizionavi direttamente sotto a quelli precedenti, il processore era così stupido che lo ridisegnava esattamente sotto, quindi tu potevi fare la stessa cosa che vi ho detto prima e moltiplicare 8 sprite quando vi pare, e fare cose di questo tipo, per esempio, questo è il mostro del terzo livello, potevi fare un oggetto di questo tipo, quindi c'avevi uno sprettone gigantesco disegnato che faceva quello che vedete e l'astronave che andava, ovviamente utilizzavo 3 sprite per l'astronave fissi, gli altri 5 li utilizzavo per il mostro, veniva un po' più stretto ma funzionava, non solo, ci potevi fare i titoli di coda, questa per esempio è la scena finale di Catalypse e quindi ci potevi fare lo schermo che scorreva sopra, quindi potevi fare delle cose estremamente interessanti e quindi aggiungi, 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 scena finale, scena di credits e tutte queste cose che vi sto calcolando, ma non solo, Turrigan aveva un bel parlato all'inizio, il 64 era basato su un processore che era analogico, quindi generava la fonte donna come un sintetizzatore sostanzialmente, ma aveva un bug, cioè se tu cambiavi il volume faceva un piccolo pop, se tu cambiavi continuamente il volume in maniera abbastanza rapida veniva un effetto gracchiante di voce ma era una voce, quindi potevi metterci effetti campionati, in Turrigan c'era un effetto campionato iniziale e il problema grosso è che il campionato occupava 64k solo lui e io ho visto, vedete quel 250 se molti i blocchi del disco erano circa 48k e lì ho capito, reversandomi Turrigan, che lui aveva un loader, un turbo loader che non esisteva sul mercato in qualche maniera, che riusciva a caricare in 5 secondi 48k che era una bestialità, poi ho scoperto ultimamente che in realtà l'algoritmo era questo qua, veniva da una rivista tedesca perché Manfred Trenz è il programmatore di Turrigan era tedesco e qui scopri che gli altri erano avvantaggiati rispetto a te, c'erano delle community, si scambiavano le informazioni, loro lo sapevano che esistevano queste robe qua e se le scambiavano, noi eravamo solo dei chiusi all'interno di un cassello ma non c'era nessuno, quindi l'unico modo era fare come ho fatto io, perché io ho sta rivista che era scritta in tedesco, io in tedesco non lo capisco, cioè non ce l'avevo, l'ho scoperto adesso, nell'ultimo periodo, che esisteva questa roba qua è che loro lo utilizzavano, quindi ho la possibilità in 5 secondi di caricare l'audio ma a questo punto è come faccio sul 64 a campionare qualcosa? Voi sapete che il 64 non c'era il campionatore e cose del genere e qui entra in aiuto un'altra persona che è citata nel gioco che si chiama Andrea Carboni che si era inventato un'interfaccia seriale dal Commodore 64 all'Amiga, se l'era fatta lui sardando per sardatore perché sono una pippa sull'elettrotecnica e quindi dice ok campioniamola sull'Amiga e poi la portiamo sul 64, la campioniamo con questo strumento che si chiama Audio Master e poi facciamo una prova pigliamo i lui campionava 8 bit li dividiamo a metà pigliamo la parte più bassa la buttiamo nel 64 perché ovviamente il volume era a 4 bit e vediamo se gira e gira e gira quindi apparentemente gli abbiamo trinciato tutta la parte alta del campionamento era un po' più gracchiante del solito ma girava ho anche il campionato all'inizio del gioco quindi ho il campionato ho l'introduzione e tutto ma non ho il gioco a quel punto siamo al 91 e la genius mi dice oh hai rotto io stavo un quinto superiore anzi ho iniziato un quinto superiore devi finire sto gioco sbrigati questo era il gioco che era uscito warm up mi dà l'out out allora io paraculo mi invento e dice ma io le musiche non le so fare ho bisogno di qualcuno che mi dà la musica e qui entra in gioco sto signore qua citato nei titoli di testa che si chiama Michael Skoggle mi ricordo che io non ho mai conosciuto non so chi fosse mi dicono solo che esisteva quindi io l'ho citato che ovviamente siccome al tempo non c'era internet non c'era una nuova cosa eccetera mi spedisce via posta e floppy con la musica io gli dico guarda volete le musiche fatte così mi spedisce floppy il primo floppy giallo come questo ma arriva accartocciato quindi illegibile io me lo stiro un pochino mo lo sistemo eccetera non riesco a leggerlo tiro fuori le musiche che ci stanno sopra lui nel frattempo me ne spedisce un altro ma io faccio prima e me le modifico eccetera per questo c'è una delle musiche che in realtà è la stessa che sta nel gioco la storia infinita 2 del Commodore 64 perché in realtà quando quello si è stropicciato lui ha sovrascritto un floppy che già c'aveva con delle musiche di un altro gioco quindi ho preso delle musiche di un altro gioco che non c'entravano niente e l'ho buttata dentro quindi ci sta per esempio la musica di caricamento che tutti dicono ah è uguale a quella di quello meno male che l'avevo modificata leggermente in realtà era quella altre l'ho modificata e l'ho sistemata però questo per dire perché tutti dicono sì è vero e è copiata poi io ho modificato delle cose quindi è ispirata è diventata fondamentalmente e infine arriviamo a ottobre del 91 il gioco ancora non c'è ci sta nelle musiche soltanto e esce il primo articolo su zap quindi a quel punto io faccio il figo con gli amici oh guardate esce questa cosa c'è il nome mio quindi sta sulla rivista del zap esce questa cosa e il mio sogno si sta a penalizzare ma non ho il gioco quindi il problema è i nemici e quindi passo da ottobre mi pare novembre dicembre gennaio e mi disegno le ondate d'attacco dei nemici su carta quindi su foglio quadrettato mi disegno tutto questa è tutta la schermata questo mi pare che fosse il livello 5 questo e mi disegno tutte le schermate e poi a mano mi faccio tutte le curve col coseno e seno faccio il fatto calcolato a parte eccetera per fare le ondate dei nemici ma siccome il tempo era poco le metteva a cazzo sul coso sperando che il livello di difficoltà anche perché non c'era nessuno che me lo testava io ero una pippa quindi ho detto vabbè se non ci riesco io forse funziona quindi sappiate che è stato tutto casuale ho buttato solo sprite a schermo per fare qualcosa dicendo vabbè così sarà difficile altrimenti alcuno ha detto dei posti sono impossibili l'algoritmo di collisioni me lo sono copiato da Armalite non è vero ho detto una cavolata ho copiato solo quello da Armalite sostanzialmente vabbè c'è un sistema di collisioni che faceva schifo infatti mi hanno messo il punteggio basso su questo e alla fine negli ultimi tre giorni io stavo in quinto superiori stiamo parlando di febbraio io non sono andato a dormire per tre giorni quindi ho fatto ho partito alle 9 di mattina del primo giorno ho finito alle 6 di pomeriggio del terzo giorno senza dormire per finire il gioco con questo stronzo che è il floppy disk che aveva un punto difetto se tu lo tenevi acceso per troppo tempo siccome scaldava troppo te bruciava il disco quindi mi ha bruciato per questo il terzo livello c'è un bug perché me l'ha bruciato l'ho dovuto rifare di corsa mi ha bruciato il quinto livello quindi ho capito che lo dovevo tenere acceso massimo un'ora e poi lo dovevo spegne per farlo raffreddamente programmato quindi immaginate pure questa cosa spegni cazzo era spento riaccendi o qualcosa del genere tre giorni così e alla fine il gioco esce questa è la pagella che è uscita su zap medaglia d'oro grande soddisfazione quindi diciamo che sono stato molto contento quando ho comprato la rivista ma sarò letta solo io non lo so ah poi figata questo io dentro il codice massimo del narcisesimo ci ho messo l'indirizzo di casa mia quindi se lo reversavi vedevi dove stavo e gente mi ha chiamato con il numero di telefono c'è uno che mi ha chiamato che medaglia copia del gioco perché c'era la cracca quindi c'è stata anche questa soddisfazione dei fan che mi hanno chiamato in tre mi hanno chiamato a casa non solo ci sono anche altre riviste tipo cpvg dove c'è stato Fabio Rossi che ha premessa allo smau venne presentato questo gioco sempre nel 91 e Mark Auletta che era uno degli autori di cpvg mi fece un culo così dicendo che io mi ero capiato Armalite che era un plagio bla 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 io ero capiato di gente eccetera e poi loro fecero non ho preso la medaglia d'oro qui ma 85% con la grafica lui ha detto è copiato è copiato ma in questi tempi 92 non ci stanno giochi a noi ci va bene così ultimamente diciamo nel quattro anni fa ho scoperto che in realtà Catalypse è stato recensito anche in Inghilterra vi ricordate che Zap era una rivista inglese e la rivista inglese mi ha dato 30% ora voi dite ma com'è possibile quelli 90 cosa hanno pagato eccetera se voi vi leggete la valutazione dice la grafica è monocolore la grafica non era monocolore non si muove niente si muoveva tutto cioè la cosa eccetera e sulla giocabilità ci potevo stare avevo messo di spread a cazzo quindi effettivamente ci poteva stare questa cosa qua e la musica non va bene perché non c'è niente di musica ma c'è stavano le cose c'è stato lo speech e tutto il resto quindi la soddisfazione della gente che mi ha chiamato per dirmi lo scoperto dopo lo sai che in Inghilterra ti hanno dato 30% e so che ci sono dei blog dove parlano di questo 30% se litigano tra di loro ah vuoi bastare di inglesi cosa c'è ci sono inglesi qua dentro scusate non voglio offendere nessuno però si è creata una piccola diatriba su questo ora quindi penso che stare nei tempi sono andato lungo eccetera ci sto questo per dirvi piccola chiosa finale di come la pazzia umana senza sapere nulla e con capoccia dura riesce poi con tanta dedizione e anche tanta fortuna a fare qualcosa ma lo spirito è questo è importante perché poi a me mi prendono più il culo per questa cosa qua dicono la tua filosofia è non fare quello che puoi copiare non copiare ciò che puoi ricalcare non ricalcare ciò che puoi direttamente tagliare ed incollare questo mi dicono a me io penso che l'intelligenza diciamo oppure la novità o tutto quello che c'è non può partire da zero molti di noi lavorano da zero in quel tempo cioè uno dice parto da zero e faccio tutto ci avrei messo vent'anni per fare un gioco perché perché non avevo una rete di supporto quindi a chi mi dice ma tu te sei craccato mezzo mondo te sei copiato mezzo mondo io rispondo vero ma non era uguale a quel mondo perché tutto il codice che sta là dentro l'ho riscritto io io ho capito solo l'algoritmo come funzionava lo scrolling tutto il resto l'ho tutto riscritto io non c'è una riga di codice uguale a quella che stava dentro gli altri giochi ma a me è servito perché a un certo punto ho capito in un momento storico della mia vita che avevo 16 anni che se no non l'avrei mai fatto sto gioco e questo mi ha salvato la vita e mi ha creato anche una professione perché poi i malware te reversi roba alla fine io faccio tutto staticamente e quindi funziona bene e quindi è andata così perfetto ci sono domande grazie recuperiamo qualche minuto quindi se ci sono domande abbiamo tempo e tanto Alberto aspetta qualche minuto e ce lo concederà hai fatto altri giochi dopo? hai fatto altri giochi dopo? sì allora purtroppo dopo ho cominciato l'università e i computer erano più complicati questo tu li potevi fare i giochi da solo cioè potevi fare tutto c'era l'amica e decidemmo di fare un picchiaduro su amica ci piaceva tanto Street Fighter 2 volevamo fare la stessa cosa anche lì pazzia puntare molto in atto quindi usare 64 colori su schermo il parallasse cose giganti eccetera ma i giochi si facevano in più persone il problema è che io facevo la grafica al sonoro a quel punto ci eravamo divisi l'altro mio amico faceva la programmazione lui a un certo punto ha deciso che stava troppo indietro con gli esami e che il bieco soldo gli serviva di più e quindi il gioco non è mai uscito a quel punto io delusissimo del fatto che ok qui non c'erano un giusto di videogiochi non c'è campi perché quando andavi in Inghilterra o andavi negli Stati Uniti per lavorare con l'Electronic Arts non c'era niente ho detto vabbè pure io mi torbi a cosordo purtroppo è andata così però il gioco c'è si chiama Fighting Cancer mi pare oppure lo trovi in un altro nome però c'è sì c'è stato se lo trovi su internet lo trovi abbiamo un'altra domanda qui ma alla fine avete scoperto perché la rivista inglese vi ha dato 30 quindi una valutazione molto bassa rispetto ad altre riviste cioè l'unica cosa che mi viene in mente è che avevano un processore che non era compatibile con il linguaggio macchina e quindi non riusciva a caricare le robe guarda come al solito la risposta più semplice è quella tutti si chiedevano perché la Thalamus prendeva sempre la medaglia d'oro anche con giochi di merda poi scopri che la Thalamus stava sempre negli uffici del ZAP dalla mattina alla sera tutto qua vabbè la storia più vecchia del mondo altre domande? scusa ma era molto più biega la questione noi stiamo in Italia un'altra? ma visto che c'era tutto questo cracking diciamo e analisi statica non c'era nessun meccanismo che te lo impediva o cioè ci si hanno provato un po' sul 64 c'era un problema che ti ho detto prima era la limitazione delle risorse se tu vuoi mettere un sistema di protezione sopra dovevi limitare le risorse per esempio la crittografia per farti un esempio quella roba è cominciata a nascere con l'amica perché tu c'avevi considerate che il 64 c'era un processore a un megahertz non vi ho detto la stessa cosa quello c'era un processore a un megahertz cioè manca la lavatrice di casa a un megahertz questo è il concetto l'amica aveva addirittura 7,96 megahertz e quindi hanno cominciato a mettere protezioni l'altro discorso è che ricordati sempre che si lavorava sul floppy disk sì ma anche sulla cassetta e il gioco sulla cassetta e tu va a proteggere il sistema sulla cassetta c'erano dei sistemi anticopio eccetera ma per chi si è visto per la musica come andava a finire quello a fine bastava una doppia piastra e tu lo registravi altre domande a posto io ringrazio tantissimo e credo sia piaciuto davvero questo talk un altro applauso a buon Andrea vi diamo un regalino questo lo appendi accanto al tuo a casa a casa sì lo ripeto qualcuno mi ha sentito ormai diranno dico sempre le stesse cose c'è scritto sharing scaring per gli speaker perché comunque abbiamo avuto un numero veramente eccezionale sia qualitativamente che numericamente di speaker e sono veramente l'ossatura di un campeggio così e una community così grazie ancora